Domande di Dio, domande a Dio, in dialogo con la Bibbia. In queste pagine proposte dalla libreria editrice vaticana si intrecciano quattro voci, come in un quartetto. Le voci si sovrappongono, si sostengono, a volte una prende più campo tra le altre ma poi cede il passo e così l'ascolto sinfonico, o meglio in questo caso la lettura, è davvero molto coinvolgente e memorabile. Queste voci hanno l'intento principale di riabilitare, di liberare dal sospetto, la forza, lo splendore di ogni domanda giusta, di ogni domanda autentica, perché la Bibbia racconta un dialogo tra Dio e l'uomo e sia Dio che l'uomo vogliono capire meglio come stanno le cose tra loro e le domande sono il punto di svolta in ogni dialogo, in ogni relazione. Mi ami? Ti amo? Domande di Dio, domande a Dio, non domande banali, non domandine di un gioco da tavola o di un telequiz. Perché il male? Perché la morte? Perché questo dolore? Posso fidarmi della gioia e dell'amore? Che domande! Chi dà il là a questo quartetto di voci che si intrecciano è Papa Francesco che scrive una prefazione importante, non decorativa, non freddamente accademica come a volte accade con le prefazioni un po' dovute per lanciare un libro nuovo, no. La prefazione di Papa Francesco a questo libro è un testo breve e al tempo stesso profondissimo, è come una spaccatura che fa venire le vertigini perché si intravedono profondità abissali. Il testo del Papa merita grande attenzione perché c'è tanta verità, vi sono delle osservazioni preziose, è un vero e proprio elogio appassionato e teologico della domanda. Gesù faceva domande, Gesù amava fare domande, i cuori adagiati, abituati, assopiti invece non fanno domande e si accontentano di rispostine. Il Papa fa notare un'altra attitudine guardata con sospetto da una certa prospettiva. Chi ha paura o è infastidito dalle domande, chi sospetta delle domande ha anche paura dell'umorismo. Le voci di queste pagine sono leggere, la leggerezza evangelica è lieta, l'umorismo detto anche spirito, la sobria ebrietas direbbe Sant'Ambrogio. L'umorismo nella sua versione autentica è vicinissimo alla grazia. Beati coloro che sanno ridere di se stessi perché non finiranno mai di divertirsi. La fede, scrive il Papa, non è qualcosa di lugubre, di avvilente, di pedante, di retro. Chi crede è contento, non ha una faccia da funerale. Grandi e vere domande e sorridere il Papa fa venire voglia di leggere questo libro. Mancano tre voci all'appello per completare il quartetto. Padre Timothy Ratcliffe, già maestro generale dell'ordine dominicano, vive ad Oxford e forse proprio lì ha approfondito tra altri temi anche decisamente il british humor, del quale è un esponente straordinario. Padre Ratcliffe ricorda un altro cattolico inglese capace di far sorridere e pensare come pochi altri, Chesterton. Ecco c'è qualcosa di Chesterton in Padre Ratcliffe così per presentarlo a chi non conoscesse questo dominicano. Con Ratcliffe si pensa, si riflette sulla fede in modo efficace e si sorride molto volentieri perché c'è tanta grazia in giro. Poi c'è un polacco, Padre Lucas Popko, sacerdote dominicano che risiede a Gerusalemme, biblista, lui insegna la scuola biblica ed archeologica di Gerusalemme, sono molto noti i suoi studi sul profetismo biblico. Il libro è dedicato al mitico padre Lagrange, il fondatore della scuola biblica ed archeologica di Gerusalemme, un supereroe straordinario degli studi biblici. Manca ancora una voce, lei la divina, non la callas, ma la pagina biblica, davvero divina, che in queste pagine agitate dallo Spirito, in tanti sensi, la pagina biblica risuona in tutta la sua straordinaria bellezza. Un piccolo inciso, se volete una confidenza, quasi uno sfogo. Che distanza, lo dico con tristezza, tra lo splendore di queste pagine bibliche e le proclamazioni della parola di Dio nelle nostre liturgie, nelle quali, forse non sempre, ma spesso, la Bibbia viene storpiata, con tono freddo, impacciato, amplificata da microfoni che ricordano l'autotune robotico e manipolatorio di certa musica inascoltabile. Il volume al massimo dei microfoni nelle nostre chiese fa assomigliare la messa più a un rave party che ha una liturgia. È quasi una violenza questo volume al massimo che si colloca nel punto più lontano possibile dal venticello leggero che rivela ad Elia la presenza di Dio. Tra le tante domande, ma come la leggiamo la Bibbia in chiesa? Che approccio abbiamo alla pagina biblica? Facciamocela anche questa domanda, visto che questo è il libro delle domande. Spesso, forse non sempre, e mi scuso, ma spesso leggiamo male, molto male. Proclamazioni puntellate di errori, di imprecisioni, di accenti inventati, pronunce buttate lì, oppure toni impietosi che ricordano la signora Rottermeier di Heidi o addirittura l'imperatore di Star Wars. Non ci siamo, facciamoci qualche domanda. Non mancano, per restare in area umorismo, si spera, e auto-umorismo, non mancano dai nostri amboni effetti comici involontari durante certe letture alla messa. Quando ad esempio si legge Elia il Tisbita e la vedova di Sarepta di Sidone, siamo nel primo libro dei re, capitolo 17, c'è sempre qualcuno che tutto intento nella lettura non vede un punto, e così un banchetto innocuo a base di focaccia diventa un orribile gesto di cannibalismo. Se non ti fermi al punto, se non fai una pausa, ecco che quella andò e fece come aveva detto Elia, mangiarono lei, lui e il figlio di lei. Una tragedia, cannibalismo se leggiamo male in chiesa, altro che parola di Dio e rendiamo grazie a Dio. Pensiamoci, facciamoci una domanda su come leggiamo in chiesa la pagina biblica. Qui no. In questo libro finalmente c'è la divina parola di Dio e le domande che Dio ci rivolge e le domande che noi rivolgiamo a lui, ma la Bibbia stessa inizia, principia con una domanda di Dio a noi, perché Dio ci ama. Adamo, uomo, umano, dove sei? Che a fine ha fatto la nostra umanità? I due domenicani dialogano partendo dalla domanda biblica. Oxford e Gerusalemme, il predicatore inglese Redcliffe e il cristianalista polacco che vive a Gerusalemme dialogano. Dov'è tuo fratello? Altra domanda subito nelle prime pagine bibliche. E poi avanti, dov'è Sara, tua moglie? Che ne è del tuo amore per lei tra voi? Qual è il tuo nome, Dio? Sono diciotto le domande qui affrontate, domande di Dio, domande a Dio raccolte in queste pagine, domande bibliche e umanissime. Ascoltate con il cuore, approfondite con intelligenza, sapienza dai due dominicani. Vi sono alcuni intermezzi che fanno risaltare ancora di più altre parole chiave come di rimbalzo, assenza, volto, profeta, lui, io. Bellissimo libro, ha quattro voci da leggere, rileggere e meditare. Una vera e propria scuola della fede che restituisce alla pagina biblica, dalla Genesi alle lettere di Paolo, tutto il suo splendore e alle domande autentiche tutta la loro forza. Sono le nostre domande, quelle del cuore di ogni uomo e di ogni donna. C'è la conoscenza della scrittura, viene in mente San Gregorio Magno, scrittura crescit cum legente. Ci sono delle scoperte, anche per chi si ritiene esperto di scrittura, e c'è anche lo spirito, l'umorismo, la grazia. Viene in mente Sant'Agostino nutre la mente solo ciò che la rallegra. In ogni rallegramento c'è un insegnamento per la nostra umanità profonda. Scrive qui Papa Francesco, il cristianesimo si è sempre posto vicino a chi si interroga. Dio ama le domande. Penso, dice il Papa, che Dio ami le domande più delle risposte. Perché le risposte sono chiuse, le domande restano aperte. Diceva Oscar Wilde in uno dei suoi più potenti aforismi. A dare le risposte sono capaci tutti, e a fare le grandi domande che ci vuole un genio. Domande di Dio, domande a Dio. Parole che si cercano in dialogo, le domande. Le parole di chi è sempre in attesa, le domande. Le parole di chi alla fine è capace di speranza. Grazie a tutti.